Non solo assistenti sociali che da anni attendono il passaggio a full time, ma anche in numero inferiore rispetto a quanto previsto. Una situazione sempre più critica a Galatina, tanto che l'USB ha scritto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per rendere note le difformità tra quanto stabilito nella progettualità del Prince progetti di intervento sociale approvate e finanziata con delibera del 2022 e quanto attuato dall'ambito territoriale sociale, ovvero la presenza di nove assistenti rispetto alle 17 preventivate, tra l'altro con la liquidazione certificata invece per 11 e l'assenza di un interprete e di un mediatore. Il Ministero ha preso in gestione la nostra richiesta. In realtà noi abbiamo segnalato al Ministero le difformità del progetto Prince rispetto a quanto è stato attuato dall'ambito di Galatina. Aspettiamo insomma un riscontro dal Ministero. Oltre a questo non ha fine l'odissea delle tre assistenti sociali che da anni attendono il passaggio full time ma continuano a non avere alcuna risposta. Sebbene le risorse ci siano così come la necessità di avere più assistenti ribadisce l'USB che ora richiede un incontro ufficiale con ambito istituzioni considerando che negli ultimi due convocati in prefettura Lecce per il tentativo di conciliazione l'ambito non si è rappresentato. La commissione di garanzia e il garante per lo sciopero ha scritto all'ambito chiedendo le motivazioni della mancata presentazione perché il loro era un obbligo. Non si sono presentati e non hanno giustificato. Per cui lo stato di agitazione va avanti finché quantomeno non otterremo praticamente un'interlocuzione seria.